Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, io sono Riccardo Zago e in questo video parleremo di un cross che ultimamente si sta muovendo molto, diciamo che si muove sempre e molto ma in questi giorni sta dando veramente grandi soddisfazioni. Stiamo parlando proprio di GBP-Audi, ecco qui ho fatto anche l'articolo, questo è un aggiornamento perché? Perché all'Ice Makudei che era l'evento dal vivo che ho fatto sabato a Milano abbiamo parlato proprio di GBP-Audi, avevo dato un chiaro e limpido segnale operativo che adesso andiamo a commentare proprio su questo cross molto volatile. Ecco qui, se poi volete leggere l'articolo, ecco l'ho fatto qui per voi, potete vederlo gratuitamente. Andiamo a vedere però il grafico GBP-Audi, eccolo qui, andiamo a capire come avevo ragionato sabato, ovviamente a mercati chiusi. Allora, lo potete vedere, ho evidenziato questa fascia di supporto che poi ha funzionato sì anche dalla resistenza qui ad esempio, guardate come ha funzionato bene anche qui, poi è stata rotta con forza. Ebbene, l'avevo individuata, guardate, è la zona che va da 1.7950 a 1.8, avevo detto attenzione, io mi posiziono al rialzo proprio da 1.7950. Un attimo che aggiungo anche le due linee che mancano in questo momento, perché sui cambi valutari uso tutte le linee di Ichimoku. Ebbene, non solo c'era questo supporto, ma vicino c'era anche la Ichimoku, come sappiamo a volte funziona molto bene da supporto barra resistenza. In più avevamo anche studiato i cicli, ma avevamo anche molte altre informazioni e di conseguenza ho dato questo spunto operativo al rialzo. Questo, come detto, è un aggiornamento e quindi andiamo ad aggiornare. Sto aggiornando a livello video un po' in ritardo, mentre se vedete l'articolo l'ho fatto quando il prezzo stava toccando questa linea rossa. Ebbene, cosa sono andato a fare? Dopo le entrate in area 1.7950 e 1.7960 ho portato già lo stop in pareggio, perché il prezzo non solo ha raggiunto questa linea rossa, che può funzionare da resistenza, ma anche dei livelli che mi piacciono molto, insomma, tutta questa zona qui è molto importante. Anche se poi andiamo indietro nel tempo, notiamo come ci trovavamo vicino a un livello molto importante. E quindi ho chiuso parte della posizione e portato lo stop in pareggio per tutelare il mio investimento. Ebbene, non vado solo a fare l'aggiornamento, ma andiamo anche a commentare le possibili prossime occasioni. Allora, se il prezzo dovesse ritornare nuovamente in area 1.7950 a barro 1.8, a mio avviso sarebbe un bel livello per provare un long, con dei target molto ambiziosi in area 1.88 e 1.89, li potete vedere in figura. Ovviamente, quelli sono i target più ambiziosi. Prima abbiamo i massimi precedenti in area 1.1836 e più in basso, proprio qui, ecco qui, in area 1.1815, 1.1820, il primo target. Infatti, oggi ho proprio chiuso per questo motivo e portato lo stop a zero. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, ditemi se siete entrati anche voi in posizione e io con questo ho concluso. Vi ringrazio, vi saluto, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti. Se volete fare un po' di trading con me dal vivo domani, alle ore 16, ecco qui, trading live con Riccardo Zago, dalle 16 alle 17. Per qualsiasi informazione non esitate a scrivere una mail a info-investire.biz Buona giornata e buon trading a tutti.